Attenzione! Avvisiamo che dalle ore 21 di giovedì 19 ottobre alle ore 21 di venerdì 20 ottobre, i treni potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero del personale del gruppo FS italiane, Trenord e Italo. Maggiori informazioni sui canali web o presso assistenze clienti e biglietterie. Attenzione! Attenzione! Avvisiamo che l'ascensore 3 relativo ai binari 4 e 5 è fuori servizio. Grazie!